Tra i tanti well lovers abbiamo individuato anche uno di eccezione, stiamo parlando di Paolo Lorenzi. Paolo, allora come sta andando questa edizione di Benvenuto Brunello? Ma sta andando molto bene, sono un appassionato di Brunello, logicamente quando sono ai tornei non posso bere troppo, ma diciamo che quando ne ho la possibilità cerco di bere il più possibile. Ecco, ma nella tua impegnatissima agenda sei riuscito a trovare un giorno libero per venire qua a Montalcino? Ma purtroppo mi sono fatto male e quindi sono fermo, sono fermo a casa e allora ho deciso all'ultimo di venire perché insomma è un'occasione unica. Quando potrai rientrare in pista, in campo? Ma il mio obiettivo sarebbe già rientrare dalla prossima settimana, ancora fra mercoledì e giovedì avrò l'ultimo controllo e spero di rientrare in campo presto. Ma un campione come te può permettersi di bere Brunello, non lo so, tra allenamenti, tra campionati, tra tornei? Ma diciamo che un bicchiere di vino, come dicono tutti, fa sempre bene, l'importante è non esagerare.